La sconfitta per la società Andrai a Roma a fare le tue rimostranze? Io non mi fermo, l'ho detto, quindi a questo punto mi posso fermare, ma solo e semplicemente per sapere la verità. Poi basta, poi non so a che punto potrò arrivare, ma io vado per sapere la verità. Il sindaco ha detto, mi pare strano che dicono che c'è carenze strutturali a questo stadio, che è uno degli stadi migliori della categoria. No, non è il problema delle carenze strutturali, che i lavori che sono stati chiesti di fare sono stati fatti. Quindi a questo punto qui non so, io credo che ci sia stata una scarsa comunicazione fra organi territoriali e Roma. Questo è quello, e quello valuterò. Ma è proprio per una soddisfazione personale, credo, per chiunque ama lo sport. I due sindaci hanno dichiarato, faremo di tutto affinché il derby di ritorno sia a porta aperte. Ma tutto deve essere a porta aperte, ma cosa c'entra? Io sono arrivato oggi per l'ennesima volta, sembrava essere in guerra, ma io queste cose non le riesco a capire. Anche perché credo che tutto questo comporti una spesa nettamente superiore alla normalità, perché tanti agenti, tante forze dell'ordine così non le possono vedere. Ma poi per cosa? Per cosa? Io dico solo una cosa, che ringrazio pubblicamente, l'ho già fatto sui giornali, lo faccio a livello televisivo, ringrazio l'amministrazione comunale di Ponte Arena, il sindaco Millozzi, l'assessore Francone, perché hanno realizzato un qualcosa in tempi tecnici, in modalità e in qualità, che sinceramente sono solo da apprezzare. Ora mi chiedo, a questo punto qui, cosa serva e fino a che punto deve essere fatta una struttura del genere per poi vedere che l'unica partita che serviva a questa struttura qui era il derby col Ponsacco. Ora mi domanderò, qualcuno mi dirà cosa verrà utilizzata questa da qui alla fine del campionato.